Si chiude il cerchio per la tentata rapina al Q8 del Matassino dello scorso febbraio. Quattro anni per il 22enne di Figline, questa la decisione del giudice del Tribunale di Firenze, a dispetto dei sette richiesti dal PM. Il ragazzo, considerato il principale responsabile del tentativo di furto al distributore, ebbe una colluttazione con il benzinaio, ferendolo ad un piede con un colpo di pistola. Successivamente al gestore del distributore sono arrivate le scuse del 22enne, gesto che ha portato il giudice a respingere in blocco le aggravanti sul suo caso, accogliendo invece le attenuanti. Tre anni e otto mesi per il primo dei due complici, il 31enne di Cavriglia, mentre il 17enne, riconosciuto dal benzinaio, rintracciato e fermato dalle autorità poco dopo l'episodio, ha ricevuto la condanna emessa dal Tribunale dei minori di 11 mesi commessa alla prova. I due maggiorenni erano stati rintracciati ad inizio settembre a Livorno e Riccione, dove stavano lavorando, mentre la pistola era stata rinvenuta in un campo a Pian di Rona, gettata via durante la fuga dal distributore. Decisive nelle indagini, oltre che la testimonianza del benzinaio, vittima del tentativo di rapina e dell'aggressione, anche i video di sorveglianza.